Campionato di eccellenza Campania, Girone e debutto stagionale amaro per l'US Agropoli che si arrende all'Angri per 2-0. Al Guariglia la squadra di Carmine Turco era la caccia di punti importanti per onorare al meglio l'anno del centenario e giocarsi le sue chance di accedere alla fase finale. Di fronte l'Angri di Mr. Sanchez che non poteva regalare nulla dopo la sconfitta all'esordio casalingo contro la Virtus Cilento. In testa alla classifica da sola il Buccino Volcei a 6 punti con 2 partite giocate, mentre al secondo posto a 3 punti la Virtus Cilento e l'Angri sempre con 2 partite giocate. Infine a 0 punti ma con una sola partita giocata l'US Agropoli e il Faiano.